Non bisogna aver paura di crescere perché è la sfida della vita. Papa Francesco ha incontrato i ragazzi di scuola media inferiore che partecipano all'esperienza educativa cristiana a grallo, i cavalieri, e li ha incoraggiati a tenere lo sguardo fisso all'orizzonte senza cedere alla tentazione di restare fermi. In un dialogo aperto ha riconosciuto che cambiare il mondo è difficile ma non impossibile, soprattutto grazie a un atteggiamento positivo e alla condivisione. Mai restituire il male al male, ha precisato il pontefice, la realtà si può modificare con le piccole cose di ogni giorno, aprendo il cuore, ascoltando gli altri, non serve la bacchetta magica. Le domande rivolte a Papa Bergoglio hanno toccato anche temi delicati come il dolore per perdite familiari o affettive. Ci sono domande e situazioni, ha detto con onestà il successore di Pietro, alle quali non si riesce a rispondere con le parole ma dietro a questo dolore inspiegabile c'è sempre l'amore di Dio che ha permesso che il suo figlio soffrisse e morisse per la nostra salvezza.